Nessun incontro ieri in prefettura, martedì il sindaco quasi alle 8 di sera ha consegnato alla vice prefetto Cerniglia l'ordinanza di requisizione del villaggio turistico Le Dune, ma l'incontro tra le due istituzioni previsto ieri non si è verificato e non si hanno ulteriori notizie di imminenti incontri. Se l'azione del comune aveva lasciato sperare che si fosse automaticamente esclusa l'ipotesi delle tendopoli, lavori che continuano nel campo da baseball lo sembrano fare intendere il contrario, dopo le 30 tende è stata montata anche la tenda grande, indice di prevista attività di refrettorio direttamente sul campo. Nel frattempo martedì stesso 33 ragazzi somali sono stati trasferiti a Guidonia vicino Roma per essere immessi in un progetto di assistenza integrata ai cosiddetti SPRAR. Lo stesso vice prefetto Cerniglia aveva dichiarato nel corso del tavolo territoriale di lunedì mattina che su live attiva e ministra reali molti dei migranti presenti nei vari centri in Sicilia sarebbero stati spostati negli SPRAR di altre città d'Italia. Mentre sono state ripetutamente smentite le voci di nuovi arrivi, ma nelle trend attente del campo, se si considera la capienza massima di 8 persone, potrebbero essere potenzialmente ospitate 240 persone. Nonostante l'azione forte da parte comunale della requisizione delle dune per trasferire migranti attualmente ospiti al Palanebiolo, sembrano dunque incombere ancora diverse ombre sulla soluzione definitiva al problema dell'accoglienza dei ragazzi africani a Messina. Tutto da ieri sembra stranamente sospeso. Nel frattempo a Palermo l'Assemblea regionale lavora per dare alla Sicilia una legge per l'immigrazione. La regione infatti, nonostante sia quella tradizionalmente in prima linea, più di ogni altra su questo fronte ne è ancora sprovvista. Grazie.